Ieri sera in Consiglio Comunale la presa d'atto della relazione sulle direttive del generale del piano regolatore è di fatto il primo passo per la revisione dello strumento urbanistico. Sì, il punto zero, nel senso che si parte con cinque anni di ritardo rispetto ai vincoli che sono scaduti nel 2012 con l'auspicio di fare in fretta, quantomeno di fare in fretta per quelli che sono gli adempimenti che il Comune dovrà fare perché poi ci sono tutta una serie di percorsi amministrativi che dipendono dalla Regione e quindi noi cercheremo di fare la nostra parte, ovviamente aprendo alla società civile, ai tecnici, ai professionisti, agli imprenditori insomma aprendo agli apporti e alle idee di tutti. Per quel poco che si riesce a fare su un territorio che ormai è inurbato al massimo io direi che si debba puntare sullo sviluppo delle strutture turistico-ricettive anche per effetto del fatto che il porto insomma dovrebbe essere completato a breve quindi per avere le giuste ricadute sia occupazionali sia a livello di rilancio turistico di Capodorlando perché il lungomare da solo non basta, ci vogliono i posti letto, ci vogliono i servizi e quindi noi abbiamo il dovere di farlo un piano organico della viabilità, i servizi che funzionano e il resto lo fa la nostra meravigliosa Capodorlando. Ritirato l'appunto sul regolamento dei rifiuti, la vostra posizione qual è? La vostra posizione è pagare tutti per pagare meno e avere un servizio ottimale. Certezza delle regole significa non ricevere più cartelle pazze dall'exato che ha cambiato solo la consonante si chiama Aro, significa non garantire sotto governi, significa che i cittadini debbono avere un servizio di qualità e sapere in anticipo quanto dovranno pagare. Il circuito dei rifiuti deve essere un circuito virtuoso. È stata discussa anche l'interrogazione sulla palestra ormai famosa di via Roma, delle scuole elementari di via Roma. È soddisfatto della risposta? Soddisfatto della risposta. Il Tar ha messo la parola fine a questo discorso a mio avviso perché chiaramente ha sentito la sospensiva e ha rinviato la trattazione del merito a gennaio addirittura del 2019. Quindi ormai c'è una pietra tombale su questo. L'auspicio è quello che il sindaco riesca a chiudere le giuste aspettative dell'impresa che ha eseguito parte dei lavori con quei famosi 3.000 euro. Io non ci posso credere tanto per usare un eufemismo che in campagna elettorale andava forte. Però sono convinto che purtroppo il plesso di via Roma non sarà più dotato di una palestra. Mi auguro che quantomeno quello di Furriolo possa esserlo secondo quelli che sono stati gli auspici espressi dall'amministrazione. Vedremo cosa faranno.